come va bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità o allora parliamo un attimino di questo bonus psicologo 2024 perché ne avevo già parlato qualche tempo fa però siccome non lo state ancora chiedendo evidentemente qualcuno si era perso il video e quindi ho preferito riaggiornare un attimino l'argomento in questo video e lo faccio perché sono state pubblicate le graduatorie delle persone che avranno diritto a ricevere questo benedetto bonus e tra l'altro in questo video scopriremo anche come fare per capire chi ne ha diritto allora abbiamo detto che sono state pubblicate le graduatorie di tutti coloro che si sono diciamo aggiudicati questo bonus perché ovviamente ne hanno fatto domanda e le liste dei beneficiari ovviamente sono divise su base regionale già sappiamo che questo contributo serve per sostenere le persone che si trovano in condizioni di depressione ansia stress fragilità psicologica e poi mi fermo qua perché lo sapete io non sono un medico e quindi non posso parlare di patologie cliniche problemi di salute e quant'altro questo che vi ho detto si trova tranquillamente sul sito internet dell'inps e quindi se lo dice l'inps a questo punto si può dire no io ragiono così per quanto riguarda invece la problematica quella specifica quella poi bisogna rivolgersi proprio a un medico e questo lo scopo di questo bonus è di permettere di intraprendere dei percorsi di psicoterapia presso degli studi professionali che sono aderenti a questa iniziativa quindi studi dei psicologi psichiatri sono comunque si devono registrare per poter poi agganciarsi alla vostra domanda si devono registrare su un sito internet voi fate domanda ricevete il bonus quindi entrate dentro un gruppo di persone che hanno diritto a questo bonus lo studio si deve registrare anche lui così riesce a trovarsi e poi ovviamente l'inps praticamente paga lo studio questo è il meccanismo proprio spiegato semplice semplice è giusto per capire poi se è un po più complicato più semplice io non lo so comunque il meccanismo è questo e questo sostegno questo bonus prevede il riconoscimento di un importo fino a 50 euro 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ne hanno diritto a ricevere il bonus tutti quelli che sono in possesso di un isee valido attenzione valido non superiore a 50 mila euro 50 mila euro 50 euro alla fine più o meno ha fatto questo c'è per cui lo dico per ricordare 50 mila 50 euro di bonus però attenzione attenzione 50 euro attenzione attenzione perché a quanto ammonta la domanda è a quanto ammonta veramente questo bonus dipende dall'esee dipende dall'esee l'importo massimo che si può ottenere con un isee fino a 15 mila euro e di 1500 euro che sono quindi 50 euro per ogni seduta di psicoterapia prima di andare avanti a raccontare il discorso del bonus psicologo vi ricordo vi ricordo l'abbonamento al mio canale di youtube mi raccomando abbonatevi al mio canale di youtube perché come vi ho detto in questi ultimi mesi gli abbonati hanno il privilegio dei commenti sotto i miei video e soprattutto dei commenti durante le dirette live quindi praticamente gli abbonati hanno un canale preferenziale rispetto a tutti gli altri questo è molto molto importante quindi abbiamo un canale preferenziale per i commenti degli abbonati primo discorso primo discorso secondo discorso gli abbonati possono accedere a una libreria tutta di video riservati solo agli abbonati quindi ci sono dei video riservati agli abbonati dei tutorial riservati agli abbonati e soprattutto durante le dirette live hanno la priorità dei commenti nella chat questo è importantissimo per abbonarvi al canale è facilissimo è facilissimo vi ho messo a disposizione due opzioni la prima la trovate qui sotto nella infobox quindi andate nella infobox cliccate sul primo collegamento e c'è il collegamento per l'abbonamento ci sono tre livelli il base il medio e il super ovviamente con il super si ha accesso a tantissime tantissime cose tra cui anche la possibilità di parlarmi personalmente con il livello super ecco questo qua questo e oppure trovate il collegamento nella pagina principale del mio canale home page pagina principale sotto il mio nome c'è un collegamento cliccate lì e anche lì trovate il collegamento per diventare abbonati al mio canale di youtube e avere accesso avere accesso a tantissime tantissime agevolazioni che sono riservati solo agli abbonati torniamo invece al nostro discorso del bonus bonus psicologo abbiamo detto che vale dai 50 euro ai 1500 euro e tutti coloro che invece sono in possesso perché stavamo parlando dell'isè compreso tra 15 mila e 30 mila euro possono ottenere un importo massimo di mille euro che sono sempre comunque 50 euro per ogni seduta di psicoterapia è comunque di base quello poi abbiamo un isè compreso tra 30 e 50 mila euro con un importo massimo di 500 euro a sto punto sorge spontanea una domanda come fare a capire se ne hai diritto è questo è importantissimo all'inps sono sappiamo che sono arrivate quasi 400 mila domande sono tantissime tantissime le domande e a sto punto per scoprire se si è stati ammessi a ricevere il bonus psicologo bisogna tranquillamente controllare le graduatorie che sono state pubblicate dall'inps l'istituto nazionale di previdenza a partire dal 12 di luglio quindi basta andare sul proprio cassetto previdenziale e si trova tutto quanto lì dentro cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione allora 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 alcuni di voi mi hanno chiesto cosa serve per ritirare la carta a di questa è importante da sapere per ritirare la carta bisogna avere con sé ovviamente con se ovviamente un documento di riconoscimento che può essere un documento di identità la carta d'identità per capirci oppure per esempio un passaporto è perché anche passaporto fa vale come documento di riconoscimento e anche anche il codice fiscale anche se in teoria sulla carta d'identità c'è già il codice fiscale ma siccome siamo in italia ci piace spendere tanti soldi noi dobbiamo stampare 50.000 tessere quindi carta d'identità quella la tesserina più codice fiscale tesserina dove a capire perché siamo italiani siamo strani comunque in questo modo cosa succede che l'operatore delle poste all'altra parte dello sportello potrà controllare che richiedete sia effettivamente la persona che può ritirare la carta a di poi per la consegna della carta non c'è bisogno di prenotare o se volete prenotare l'appuntamento imposta per fare prima per non arrivare lì che poi ci sono 50 mila persone potete prenotare un appuntamento e fate prima ma questo lo decidete voi comunque non c'è bisogno di prenotare nessun appuntamento anche se molti me hanno detto che qualche tempo fa per fare prima appunto come vi ho detto hanno prenotato l'appuntamento con la lì con l'app ma giusto per non come vi ho detto per non arrivare che ci sono poi 50 persone in attesa tutto lì l'altra domanda che ho ricevuto in questi ultimi due mesi è questa per poter ritirare la carta devo per forza aspettare che mi arriva il messaggio sul cellulare oppure posso andare anche dopo anche senza averlo ricevuto a domanda si dice in giro voci di corridoio si dice in giro è quello dico così che il messaggio sms email che cavolo ne so io che avvisa della possibilità di ritirare la carta adi imposta dicono che queste persone mi dicono che non sarebbe necessario quindi in teoria anche se la domanda di adi è stata accolta e il pagamento è stato disposto perché sapete che la carta si può già ritirare carica e si può andare tranquillamente in posta la carta senza aver ricevuto praticamente nessuna comunicazione da parte delle dell'inps però vi ripeto sono voci molte persone l'hanno fatto sono andate ha ritirato la carta senza nessun problema tentar non nuoce tentar non nuoce bene prima di concludere vi ricordo ancora il discorso degli abbonamenti del mio canale di youtube molto importante trovate il collegamento qui sotto nella infobox oppure nella pagina principale del mio canale di youtube sotto il mio nome c'è il collegamento cliccate lì potete diventare abbonati ci sono tre livelli medio base e super e vi ho detto che con l'abbonamento super avete accesso a tutte le funzionalità dei tre livelli di abbonamento quindi questa cosa è molto molto importante e soprattutto soprattutto gli abbonati hanno l'accesso ai commenti prioritari sotto i video e nelle dirette live in più possono vedersi tantissimi video riservati solo a loro perché c'è tutta una libreria di video riservata solo agli abbonati video tutorial e quindi abbonatevi e vedrete che avrete tantissimi accessi in più con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao